Perché scegliere il Master CESMA? Proprio per come è formulato il Master, cioè 5 mesi compatti di didattica, permette soprattutto a ragazzi che non provengono da facoltà come Ingegneria, come Statistica, come Informatica, ma magari appunto da facoltà come Economia, Scienze Politiche e altre ancora, di rafforzare il loro curriculum, rafforzare le loro conoscenze con delle tecniche che vengono oggi richieste tantissimo, in maniera trasversale, in tutti i campi disciplinari. Quindi fare un investimento su queste tecniche vuol dire fare un investimento sul futuro, sul prossimo futuro, anzi direi quello attuale, e quindi riuscire poi a inserirsi nelle nuove professioni, quelle che verranno nei prossimi anni. Siamo noi i limiti di noi stessi. Superiamolo!